Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata fredda con panna cotta al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta 30 minuti più 8 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono biscotti secchi, burro fuso, panna fresca, latte intero, crema di pistacchi, zucchero, gelatina in fogli, per decorare fragole e granella di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo tritare per 30 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro fuso ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Trasferire il composto in uno stampo per crostate formando anche i bordi. riporre in congelatore per 15 minuti. Abbiamo lavato e asciugato il boccale. Adesso prepareremo la panna cotta. Mettere lo zucchero, il latte intero, la panna, la crema di pistacchi, ed azionare il bimbi per 4 minuti, 80 gradi, velocità 3. Aggiungere la gelatina ben strizzata ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Abbiamo ripreso la base dal congelatore. Adesso verseremo il composto. riporre in frigo per almeno 8 ore. Trascorso il tempo la crostata è pronta. Decorare con fragole, granella di pistacchi e crema di pistacchi. Crostata fredda con panna cotta al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!